la prego io sto in campagna elettorale in italia non mi metto a parlare della democrazia ungherese giorgia meloni ha risposto così a una domanda di serena bortone a oggi è un altro giorno su rai 1 la leader di fratelli d'italia come riportato da sky tg 24 ha aggiunto non mi pare che quando viene qui enrico letta gli chiedete di cuba la meloni insomma è stata chiara nessun riferimento alla politica estera il voto avverrà in italia domenica 25 settembre alle parole della leader di fdi la conduttrice ha replicato il pd da tempo non è più alleato di cuba beh allora sono contenta se hanno cambiato idea ha chiusato la meloni che qualche parola sull'argomento l'ha comunque spesa purtroppo si usano due pesi e due misure e non è un bene che un'unione che nasce sui pari diritti poi consideri alcuni governi più amici e altri meno amici non c'è bisogno di arrivare a orban ha proseguito l'ospite dell'abortone due commissari europei si sono permessi di dire che se in italia vince il centrodestra non va bene la meloni insomma ha messo in chiaro che in europa non dovrebbero esserci paesi o governi di serie a e di serie b come qualche volta è stato detto invece dal segretario del pd grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti